Nelle Marche del Quattrocento i grandi politici a fondo continuano ad essere molto amati e molto diffusi ben oltre la stagione tardogotica. Nella seconda metà del secolo artisti di cultura rinascimentale si cimentano con questo formato di dipinto d'altare. Fra i più originali c'è senz'altro Carlo Crivelli. Crivelli veneziano arriva nel 1468 nei territori Frascoli, Piceno e Fermo, dopo una formazione a Padova nell'ambiente dello Squarcione e di Mantegna e dopo una sosta a Zara. Rimarrà nella regione per tutta la vita fino al 1495 e ne segnerà profondamente gli sviluppi artistici. Il trittico per San Domenico a Camerino è firmato e datato 1482. A Brera se ne conservano solo alcuni elementi. Dobbiamo immaginarlo dotato di una grande e splendente cornice dorata e intagliata. L'oro e l'argento sono utilizzati per ottenere effetti pittorici e sono utilizzati con grande virtuosismo e grande varietà di tecniche. Abbiamo l'oro in foglia per i fondi che nelle tavole principali sono lavorati a motivi di Damasco diversi fra una tavola e l'altra. Abbiamo l'oro a missione cioè dato a pennello un po' dappertutto e abbiamo parti in rilievo ad esempio la scimitarra sul capo di San Pietro Martire oppure le chiavi, il pastorale e gli ornamenti della mitria e del mantello di San Pietro. Le stoffe sono descritte con grande cura tanto da renderne l'effetto tattile e corrispondono a tessuti realmente prodotti all'epoca. Il gusto decorativo di Crivelli è estremo. Notiamo ad esempio i frutti minutamente descritti nei festoni di gusto padovano o abbandonati ai piedi dei personaggi sacri come offerte votive. Le fisionomie sono estremamente caratterizzate. San Domenico e San Pietro Martire hanno delle espressioni intense e devote. La Vergine e il Bambino sono figure di bellezza aristocratica così come San Venanzio il giovane patrono di Camerino che tiene il modellino della città. San Pietro ha una fisionomia caricata e un'espressione arguta. Sembra quasi un vecchio contadino marchigiano diffidente così come alcuni dei santi raffigurati nelle tavolette della predella.